Ciao dolci unicorni, un nuovissimo video, testiamo insieme le colle, in questo caso finalmente me la avete richiesto in tantissimi oggi andrò a testare la colla vinilica super ask, io con questa marca diciamo mi sono trovata bene e mi sono trovata male perché la colla trasparente di questa marca per me fa schifo, non mi è piaciuta completamente e sono veramente super curiosa di testare questa se riusciamo con questa a fare uno slime o no in una ciotolina andremo a mettere la colla ask e poi l'andrò a densare con il bicarbonato e la soluzione per le lente a contatto mentre nell'altra ciotolina andrò sempre ad utilizzare ovviamente la colla ask, la colla vinilica ask però l'andrò a densare col bicarbonato ed il Dixon, io direi che possiamo partire subito con il test ovviamente per prima cosa andrò a versare la colla ask e vediamo adesso siccome io ovviamente non lo voglio lasciare bianco perché a me gli slime bianchi non è che mi piacciono più di tanto andrò ad aggiungere il colorante, ovviamente il colorante è un ingrediente in più quindi non andrà ad influire sulla riuscita o meno dello slime questo qui lo voglio fare di questo colore, voi sapete che io adoro questo colore io prendo sempre gli acrilici da Tiger perché mi trovo bene ce ne metto proprio una goccia, non voglio esagerare e vado a mescolare allora già noto che la colla è molto molto densa, non è liquidosa come le varie colle viniliche che ho testato finora è abbastanza, diciamo da quell'effetto di, non lo so, di durezza mentre la si va anche a mescolare guardate che bellissimo il colore che è uscito, bellissimo, è tipo un confetto e un confettino, ok? e questo qua è uno e poi a questo qui vado anche a fare l'altro, mentre ci siamo vado a versare sempre la colla vinilica la scicola ole, ok questo qui invece vado a colorarlo con questo rosa pastello che è bellissimo guardate che bello penso che su per giù i colori dovrebbero venire un po' simili vediamo, vediamo, ok vado a mescolare questo viene proprio rosa, tipo, non lo so, bubble gum guardate che bello è bellissimo mamma mia che bello ok, come ho detto prima, ovviamente il colorante, ripeto, non va ad intaccare il risultato finale quindi il colorante non c'entra nulla sulla riuscita dello slime perché è opzionale, quindi potete metterlo come potete non metterlo quindi adesso che abbiamo messo il colorante manca soltanto di mettere gli addensanti e vediamo cosa succede ok, guardate che colore veramente bellissimo che è venuto questo slime, ancora non è slime quindi non possiamo chiamarlo slime, però è bellissimo questa pappetta è bellissima, ecco, pappetta hashtag pappetta, ci deve essere ok, questo qui lo andremo ad addensare con il bicarbonato e la soluzione per le lenti allora, vado a prendere un pizzico di bicarbonato qualsiasi tipo di bicarbonato, ve lo ricordo, va benissimo ok, dopo aver messo il bicarbonato senza fare schifezze in giro come sto facendo io ok, andiamo a tamponare un pochettino quanto basta ok, adesso l'ultima cosa che manca è questa qui io utilizzo questa come soluzione salina la trovo alla salmiraghi e mi trovo benissimo adesso la vado a mettere qui e vediamo cosa succede vediamo se si addensa per ammettere un po' di soluzione e vediamo se inizia a fare reazione oppure no ok, già guardate inizia anche a staccarsi dalle pareti quindi mi sa che questa colla va bene eh, sì, 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 sì guardate ok, questo è fatto perfetto già questo qui praticamente guardate sembra una cosa bruttissima è un po' così mamma mia che cos'è però è fatto ok, quindi dato che questo qui è fatto andiamo a fare l'altro e poi alla fine li vediamo in azione tutti e due ed ecco qui l'altro sempre andiamo a mettere un pizzico di bicarbonato e poi invece questo qui lo andrò ad addensare con il Dixon il famosissimo Dixon quello che utilizzo sempre io però qualsiasi tipo di Dixon che io sappia va bene ok e adesso eccolo qui io lo tengo qui perché comunque mi trovo benissimo a metterlo nella bottiglietta vado a mettere un pochettino di Dixon ne vado ad occhio voi ovviamente anche andate poi ad occhio e poi vado a mescolare il tutto e vediamo sembra che anche col Dixon va bene guardate, guardate eh sì mi sa che questa con l'ask mi sa proprio che funziona sta venendo tipo non lo so ce l'avete presente la la Big Bubble? ecco la Big Bubble guardate anche l'altra somigliava tantissimo alla Big Bubble quindi abbiamo fatto lo slime Big Bubble molto bene guardate che bello ok adesso io direi che possiamo iniziare a giocare con entrambi gli slime ed eccoli qui i nostri due slime con la colla Super Husk vado a prendere il primo questo qui che vi ricordo che l'ho addensato con il bicarbonato è la soluzione per le lenti guardate sembra non lo so sembra chewing gum sì io dico che questa colla per me è promossa l'ha reso molto molto morbido guardate che bello è bellissimo mamma mia che bello sono contenta di questo risultato di questo test perché non me l'aspettavo dato che comunque io con la colla non vado da tutto d'accordo invece guardate no vabbè il top è bellissimo ok ok corino questo qui lo possiamo già posare vado a prendere l'altro questo qui sarà molto più liquidoso infatti proprio perché l'abbiamo addensato con il detersivo l'unica cosa che dobbiamo fare è andarlo a lavorare con le mani ma già vedo che comunque è veramente bellissimo il colore poi guardate che flash è bellissimo e sto notando che ovviamente questo è più liquido rispetto all'altro e non dà neanche l'effetto di pesantezza sulle mani di slime come l'altro questo è molto molto leggero ma anche effetto di porra guardate ok no è bellissimo lo dovete andare a lavorare con le mani infatti già si sta anche migliorando sembra la big bubble è bellissimo è bellissimo ok ecco infatti basta che lo lavoriamo un altro pochettino e già ok guardate è bellissimo è un colore stupendo e la colla ask per me a questo punto è veramente super promossa e il test è super riuscito sono veramente super contenta che questi test vi piacciono tantissimo perché io amo fare questi test e provare mille colle e varie cose da mettere all'interno dello slime veramente mi diverto se il video vi è piaciuto mi raccomando fatemelo sempre sapere con un like iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e vi aspetto su instagram per le mie dirette e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao